Con il decreto ministeriale numero 103 del 12 maggio 2011, l'uso degli spray anti-aggressione è diventato legale anche in Italia, ma dopo i recenti fatti di Corinaldo e le sei persone morte nella ressa provocata in discoteca dall'uso improprio dei cosiddetti spray al peperoncino, si è riacceso il dibattito sull'utilizzo degli stessi. Il Ministero dell'Interno, liberalizzandone l'acquisto e la detenzione, con l'apposito decreto ne regolamenta anche l'utilizzo, precisando che se usato per recare offesa alla persona, il cosiddetto spray al peperoncino, che nebulizza il principio attivo a base di oleoresina di capsicum, diventa strumento di reato e dunque perseguibile per legge. Via libera perciò all'utilizzo di questi spray solo per legittima difesa nel rispetto di alcuni requisiti previsti dal decreto 103 del 2011. Maria Luisa Canigiani dell'Armeria Il Cinghiale di Pescara, quanti tipi di spray al peperoncino avete a disposizione per la clientela? Noi ne abbiamo due tipi. Un tipo che ha sette spruzzi e non è ricaricabile e contiene anche un inchiostro marcatore di colore blu che sporca l'eventuale aggressore. Poi ne abbiamo un altro tipo che invece è a forma di pistola, piccolino, del ricaricabile e da cinque spruzzi. L'efficacia è intorno ai tre metri circa. L'uso è severamente vietato ai minori di 16 anni e non può essere utilizzato in luogo chiuso. Viene utilizzato soprattutto dalle donne e anche genitori che vengono per i figli che studiano fuori o che comunque lavorano di notte, guardie giurate, sistemi di vigilanza. Molti lo usano anche per i cani, quando portano a spasso i cani e questo soprattutto le persone anziane che hanno paura di essere aggrediti da cani di taglia maggiore, anche chi va in montagna perché comunque l'efficacia è anche per i cinghiali, i lupi o cani selvatici. Che prezzi hanno? Il modello che abbiamo noi viene un tipo 15 euro con sette spruzzi. Lo spruzzo è leggero, quindi dura poco e ogni volta esce un po' di peperoncino. Non è ricaricabile e questo costa 15 euro, altrimenti poi abbiamo un modello ricaricabile che ne costa 27 e ha 5 spruzzi. Dottoressa Elena Simoncelli, come funziona questa oleoresina di capsicum? L'oleoresina di capsicum è una sostanza fortemente irritante per la cute, infatti si chiama rivulsivo cutaneo, abitualmente utilizzato in pomate di tipo terapeutico per ottenere l'azione del calore. Se questo effetto viene cercato su un tessuto più sensibile come può essere una mucosa, tipo quella della bocca o peggio della congiuntiva, ovviamente l'effetto è ancora più irritante e doloroso. Sicuramente è reversibile l'effetto, perciò è stato autorizzato dalla legge per un utilizzo che tenda a distogliere l'aggressore dall'azione che stava compiendo senza provocargli danni irreversibili. Ma lei all'incirca in un mese quanti ne vende di questi spray al peperoncino? Guardi, la vendita è fra una cinquantina, fra i 30 e i 50 al mese. Quest'estate abbiamo avuto un incremento perché molti andavano in vacanza, i genitori lo volevano per le figlie, però nel bagaglio a mano non si può portare, molti genitori sono venuti a comprarlo per i figli, soprattutto per le ragazze comunque, quello. E qualche fidanzato l'ha regalato anche alla ragazza.